Grazie a tutti raga, io sono del gamer 792 Oggi siamo soggetti a 5 per farvi vedere, ma non ho fatto niente, vabbè, per farvi vedere un bug che vi dà macchine da lusso e a soldi infiniti Per, incominciamo per le macchine da lusso, vabbè, prendete una auto qualsiasi oppure una moto, vabbè, un taxi anche E dovremo andare in questo punto Proprio dell'ho segnato Comunque, salvo Comunque, vabbè, c'è salvo, però sta... Sta a fa un video Ok, ragazzi, eccoci qua Comunque, sbagliato punto, dobbiamo andare qua Cioè, non qua, però qua Vabbè, probabilmente qua E ci sarà... Sì? Aspetta, torno subito Ok Mi muto Ok, e ci sarà questo garage Voi, se entrate, troverete... Oh, una bellissima, bellissima macchina Raga, quanto è bella Ok, e da qui avremo una bellissima macchina Perché, tutta gratis Perché, se noi la vorremmo comprare Ci costerà un bel po' Guardate Per esempio, qua, gli aerei Vabbò Tipo qua Guardate C'è un milione di euro Cioè, chi se la compra un milione? Questa 500.000, abbastanza bella Qui me la comprerò Probabilmente E niente, qua Qua Sarà la nostra Macchina Guardate Quante Figlia E niente Poi per i soldi Per i soldi Dovremmo andare Che bello Morire affogato, raga Proprio È un onore Morire affogato Per me Stavo pure per te Vabbè, raga Ci rivedremo Di nuovo Alla spiaggia Cioè, no Alla spiaggia Vabbè Alla posizione In cui Potremmo avere soldi infiniti Ok, raga La prossima La prossima Dovremmo andare Esattamente qua Un bel po' lontano Quindi Ritaglierò Il video Perché Due chilometri Spendiamo la radio Comunque, raga Guardate Quanto Cavolo È veloce St'auto Salvo Tu dopo Lo devi fare Sto trucco Perché Diventerai Più di milionario Più di milionario Più di milionario Cioè, raga Non si è fatto un gaffio Vabbò Qua un po' Però Cioè, raga Un aso più bella Di così Cioè È il bello Che se salvate Una partita La potete Riprendere La potete Usare Per le missioni La potete Cioè Cioè, raga Poi, raga Con sto trucco Che avrete Cioè, soldi infiniti Cioè Proprio Forza Cioè, raga Da due chilometri Siamo già A 500 metri Cioè Quindi è inutile Che tagli Il video Perché Siamo È Praticamente Velocca Eh Sì Cioè, raga È inutile Che ritaglio Il video Ok Ormai Dovremmo Abbandonare La nostra La nostra macchina Sì Perché Dovemmo andare In mare Oh, per cavolo Però mi servirebbe Un motoscafo Perché la zona Ok Perché la zona Di mare È un po' Lontana Aspetta Aspetta Dovemmo Dovemmo Vedete una cosa Sott'acqua Dovrebbe Essere Qui Da qualche Parte Dovemmo Allora Di saliamo Innanzitutto Perché non Un gira Sto Franchine Più Lontano Mi sa Dovemmo Essere Qui Da qualche Parte Ok Bro Ma L'hai tagliato Il video No Ok Raga Comunque Ho appena Adesso Scoperto Che Hanno Sbloccato Ancora La zona Dove Si trovano I soldi Però Fra poco La sbloccata Tranquilli E niente Raga Per ora Vi ho fatto Soltanto Vedere Il lusso Comunque Raga Quando Se Tipo Una macchina Da lusso La La rompete Dovete Crearvi Un salvataggio Un salvataggio E poi Potrete Se andate Sul telefono Carica Salvataggio Che c'è Salvo Poi Mi dici Come Avere I soldi In film Che mi vado A comprare Ma Ancora Non ho Sbloccato La La zona Per avere I soldi E Pro Per avere La macchina Quella Bella Bella Di Lusso Come Bisogna Fare Vedrà Nel video Comunque Raga Niente Quando Sbloccherò La zona Ve lo dirò Quindi Raga Spero Che il video Vi sia Piaciuto Iscrivetevi Al canale Lasciate Un pollicione In su E noi Ci vediamo Al prossimo Video Bella Ciao